La Giunta Masci accende un faro sulle problematiche del fiume. È la prima volta che il Comune interviene sul Pescara con urgenza per garantire la sicurezza della navigabilità. Si tratta solo di un passaggio di un più ampio quadro strategico cui stanno lavorando il settore transizione ecologica e sostenibilità ambientale diretto dall'architetto Emilia Fino e l'ufficio coordinato dall'architetto Esther Zazzero che attraverso l'analisi delle specifiche caratteristiche territoriali, le indicazioni delle azioni per il disinquinamento e la messa in sicurezza idraulica è volto alla valorizzazione del fiume Pescara che rappresenta un obiettivo centrale per l'attuale governo cittadino. Questa fase di avvio delle attività è infatti il risultato di una delibera della Giunta Masci approvata su proposta dell'assessore Nicoletta D'Inisio grazie ad un finanziamento regionale di 100.000 euro. Fondi assegnati dalla regione perché la regione è molto attenta alle problematiche di Pescara, del fiume Pescara e in questo caso della pulizia del fiume. Noi abbiamo immediatamente fatto la gara, abbiamo assegnato già le opere quindi la ditta partirà veramente a breve, fra qualche giorno, pulirà sia l'alveo del fiume dai tronchi che navigano indisturbati e sia le sponde del fiume perché ci sono sponde veramente bellissime che sembrano sponde dei fiumi sudamericani in alcune zone. Noi puliremo per 7 chilometri fino al confine con San Giovanni Teatino in modo tale che poi possa essere navigabile senza incontrare problemi ma come vedete noi sul fiume stiamo facendo molti lavori, il porto che si sta realizzando col Molo Nord che è quasi completato, il dragaggio che ci sarà per permettere alle barche di rientrare in porto, la pulizia del fiume c'è un'attenzione particolare, è stato per troppi anni trascurato, tutti hanno parlato della risorsa fiume e nessuno mai ci ha messo un euro e nessuno mai intervenuto. Noi invece stiamo intervenendo per fare quello che si doveva fare da tanto tempo e che non è stato fatto. Oggi si fa, siamo contenti e mi auguro che siano contenti anche tutti coloro che navigano il fiume e che ogni volta trovano difficoltà, protestano e oggi invece vedono una soluzione ai loro problemi.